Si riduce a 13 la rossa dei candidati risultati donne all'incarico di direttore generale dell'ASRE. Inizialmente gli ammessi erano stati 35. L'elenco è stato trasmesso alla giunta regionale dalla commissione di esperti nominata con proprio decreto dal presidente della regione Donato Toma. La scelta degli aspiranti manager tiene conto dei titoli in possesso dei candidati e del colloquio. E poi ci sono anche determinati requisiti rappresentati dalle esperienze dirigenziali di direzione maturate, dei titoli formativi e delle altre esperienze professionali. Il nuovo manager dell'azienda sanitaria regionale sarà individuato dunque tra i 13 nominativi ammessi. Tra i candidati a ricoprire l'incarico anche l'ex direttore generale Oreste Florenzano, la dirigente alla salute della regione Lolita Gallo e l'attuale commissario straordinario Evelina Gollo, che ha preso temporaneamente il posto di Florenzano, nominato l'8 febbraio del 2020 in piena pandemia, e che non fu riconfermato alla scadenza febbraio scorso. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore ai cinque. Alla scadenza, vale a dire nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, la regione procede alla nuova nomina previo espletamento delle procedure previste attraverso regolare concorso pubblico.